Nel Brasile di Bolsonaro, dove il virus e la sua ferocia sottostimata o negata hanno mietuto vittime e incrementato la vulnerabilità di intere comunità, minando vite, lavoro, attività pubbliche, il movimento Sam Terra ha continuato a portare avanti la propria idea di riforma agraria e di condivisione, aiutando le tante e troppe famiglie in difficoltà. Un'azione che il Papa ha voluto valorizzare con un messaggio per la giornata dei lavoratori rurali, celebrata il 25 luglio scorso. Attraverso il Cardinal Cerni, sottosegretario del Dicassero per lo sviluppo umano integrale, il Pontefice ha ringraziato il movimento per aver distribuito tonnellate di cibo a chi versava in condizioni disperate per le conseguenze del Covid-19. Un segno del Regno di Dio che genera solidarietà e comunione fraterna, scrive Papa Francesco, che ricorda il gesto con cui Gesù moltiplicò i pani per gli affamati del suo tempo. La condivisione, sottolinea il Papa, produce vita, crea legami fraterni e trasforma la società. Un gesto da moltiplicare che si scrive nella tradizione dei Sam Terra da 35 anni impegnati a creare cooperative agroalimentari nei vasti latifondi incolti del Brasile. Un'attività che in poco più di tre decenni ha aiutato oltre 370.000 famiglie, contrastando politiche governative indifferenti al destino degli ultimi.